Anche io sono favorevole alla campagna di vaccinazione contro il coronavirus perché credo che sia il modo più veloce e sicuro di tornare ad una sorta di normalità quindi a poterci abbracciare a vivere il quotidiano e perché no a venirci a seguire e tifare sui campi di gara di tutto il mondo perché noi ne abbiamo bisogno e non vediamo l'ora di riavervi qui con noi e per questo io dico io mi vaccino e ti proteggo. Grazie. 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 Grazie.